A livello internazionale e in carriera mai si è spinta così in là e poco importa se il sogno di approdare in finale è svanito proprio sul più bello. La medaglia di bronzo agli europei elite femminili di box per la piacentina Roberta Bonatti assume un valore molto particolare. Diciamo che è un risultato che mancava, è il primo campionato europeo nella categoria elite a cui partecipo. Direi un campionato molto emozionante, molto lungo, è durato tanto, è stato molto duro dal punto di vista sia fisico ma soprattutto mentale. Prima la francese d'Almeida, poi ai quarti di finale anche la fortissima romena Duta. La Robertina, come la chiamano nella palestra Salus et Virtus dove è cresciuta a pane e pugilato, ha dovuto arrendersi in semifinale sotto i colpi della russa Ciunga Lacova, anche se la consapevolezza di aver sfiorato l'impresa c'è e rimane. Mi davano proprio per morta, una testa di serie numero due Duta, 430 incontri all'attivo, 3 argenti mondiali, 4 ori europei. Poi il match della medaglia, quindi se avessi vinto ai quarti avrei comunque messo il mio piede sul podio. È stato un match molto complicato, un'avversaria comunque ostica, vincere contro di lei mi ha veramente fortificato. Quali saranno i prossimi impegni e soprattutto le prossime ambizioni? Adesso mi aspettano i mondiali, manca soltanto un mese, io fra due giorni partirò di nuovo per la nazionale dove inizierà e poi si concluderà sempre ad Assisi la preparazione per i campionati del mondo che saranno in Russia. Cosa ti aspetti? No, faccio un grande bocca al lupo alla mia russa che spero di rincontrare in Russia e in mondiali e spero di riprendermi la mia rivincita. Che cosa le manca, se qualcosa le manca questa pugile ha ampi margini di miglioramento per arrivare al top? Ora con le esperienze che sta preparando, che sta maturando e con la consapevolezza delle sue qualità e delle sue doti può ottenere quello che vuole. Io la ritengo una delle migliori al mondo perché a questi livelli può solo ambire ad alti risultati. Grazie. Grazie a tutti.